se c'è una categoria che nessuno invidia questa è proprio quella dei tifosi nel momento del trionfo il piacere si irradia ma quanto rari sono questi momenti se paragonati alla sofferenza la pazienza la costanza necessari a questo immenso esercito di innamorati folli ma il giorno della partita la città scompare la routine si dimentica esistono solo lei e i suoi colori il massimo del compiacimento misto al disappunto quei 90 minuti come un terremoto di emozioni 22 gambe e un pallone guarda cosa sono capaci di fare in fondo c'è forse un luogo in mondo in cui l'uomo è più felice siamo aquile e siamo fatte per volare